esiste un settore nel nostro paese che è poco conosciuto nel settore della logistica è un settore fondamentale quello che fa muovere le merci nel nostro paese è il settore che durante la pandemia durante il lockdown consentiva alla popolazione italiana di mangiare di avere le merci a casa è un settore che manda avanti l'intero paese ed è un settore dove le multinazionali la fanno da padrone e i lavoratori i tanti lavoratori che sono riempiegati sono sfruttati a condizioni simili a quelle dell'inizio del novecento e come all'inizio del novecento i lavoratori si organizzano si ribellano esistono i sindacati concertativi ma pare che la loro azione sia molto poco incisiva e quindi i lavoratori si organizzano con altre forme sindacali e queste forme sindacali non sono sopportate da questi grandi padronati che mandano squadracce che mandano persone a disturbare attaccare le giuste rivendicazioni di questi operai e di questi lavoratori e di questi lavoratori sindacalizzati a biandrate ieri uno di questi lavoratori di 36 anni è stato ucciso da un camion che voleva entrare uscire lo stabilirà la magistratura all'interno dello stabilimento l'int ma il morto poteva avvenire tante altre volte perché c'è un clima c'è un clima davvero pesante e mentre nel nostro paese queste multinazionali non pagano le tasse fanno chiudere gli artigiani commercianti oppure li strozzano perché usano una forza nella concorrenza sleale assolutamente impari sono più potenti degli stati e i lavoratori che stanno dentro queste fornaci che vorrei definire così sono privi di diritti e quindi un paese civile deve appoggiare le lotte di questi lavoratori e interessarsi capire cosa avviene nella filiera del prodotto che si arriva a casa confezionato e quanto sudore in questo caso anche quanto sangue è stato versato sento parlare durante la campagna elettorale che arriverà di fascismo spesso il partito democratico usa questo antifascismo da passerella ecco ci sono stati ormai decine di episodi di squadrazze prezzolate da queste grandi aziende che mandano questi picchiatori a ad attaccare questi lavoratori che difendono il diritto a migliorare la propria condizione di lavoro ecco questo è il fascismo non un cretino che alza e fa il saluto romano ma l'attacco ai lavoratori che difendono i propri diritti da parte di squadracce armate pagate da questi grandi gruppi ecco quello il fascismo e io in questo denuncio questa situazione incredibile